Grazie mille e grazie anche per questa opportunità e vi ringrazio in anticipo per l'ascolto perché purtroppo la nostra collega, l'ingegnere Elisabetta Bracci, che è manager del cluster Innovate, non è potuta essere qua in quanto ha un po' di problemi di salute, quindi io e il collega Massimo Garuti cercheremo di compensare questa mancanza e poi capirete perché stiamo ridendo, perché in realtà trattiamo tre tematiche afferenti allo stesso mondo di cui fate parte anche voi, ma con tre approcci diversi, quindi non è sempre semplice anche tra di noi comprendere il linguaggio e comunicare al meglio, anche se le esperienze sono comunque sempre molto interessanti. Come giustamente ha detto Cristina Ambrosini, i cluster, quindi breve riepilogo di che cosa siamo, sono delle associazioni di diritto privato fortemente volute dalla regione Emilia Romagna perché ha visto in quella che sarebbe in realtà una struttura che deriva dall'Europa, in Europa esistono tantissimi altri cluster su molti argomenti, tipicamente però in Europa li trovate costituiti secondo un processo bottom up, quindi le imprese si costituiscono prima in rete di impresa, si conoscono, si piacciono, cercano di lavorare insieme, di creare nuove idee, nuovi progetti secondo quella che è appunto la filosofia dell'open innovation, andando poi a cercare nel mondo della ricerca chi li può supportare in questo processo. La regione Emilia Romagna invece ha fatto un processo un po' diverso e noi siamo nati proprio, le associazioni cluster sono nate proprio grazie a questo processo invece totalmente top down, perché comunque c'è una legge regionale che ci supporta, che ha supportato questa crescita, perché ha creduto fortemente in quello che è il rapporto proprio tra l'ente locale, la ricerca, l'impresa e anche l'impresa innovativa, quindi start up innovative. All'interno della regione Emilia Romagna troverete ad oggi nove cluster, qua vedete i primi sette che sono quelli che hanno dato proprio il via all'ecosistema dell'innovazione insieme poi ai tecnopoli trovati cluster che, per chi magari segue un po' anche l'urbanistica, io di estrazione sono architetto urbanista, in realtà il cluster supera quella che era in urbanistica chiamata la vocazione territoriale, perché effettivamente noi abbiamo sede a Bologna, in Viagobetti, ad Arterra, tutti abbiamo sede lì, ma però lavoriamo su tutto il territorio regionale, afferiscono a noi imprese e laboratori della rete alta tecnologia di tutta la regione Emilia Romagna e non solo, all'interno dei cluster troverete anche realtà che vengono da fuori Emilia Romagna, perché vedono comunque in questo ecosistema delle opportunità di crescita. Dicevo, siamo partiti in sette perché sette erano i pilastri dell'economia regionale, quindi agri-food, build, energia e sostenibilità, create, quindi industrie culturali creative, salute e benessere, innovazione dei servizi che purtroppo non è potuta essere qui oggi la cluster manager, e meccatronica. Da novembre si sono aggiunti anche altri due cluster che sono quello che riguarda prettamente il turismo e economia urbana, per lavorare su tutte quelle che sono le tematiche. Poi noterete, nella mia presentazione parlerò brevemente di rigenerazione urbana, economia urbana è una parte di questa rigenerazione, quindi in realtà è molto calata sugli obiettivi economici di quello che è il mondo città, il mondo urbano. E poi abbiamo Big Data e Mooner che vengono assimilate ai cluster e sono associazioni Big Data a soci interamente dal mondo pubblico e riguarda per l'appunto tutto il mondo dei dati e dell'informatica, mentre Mooner è tutto ciò che riguarda il veicolo. Poi, qualsiasi cosa interrompimi e integra tranquillamente. Vi dicevo che noi lavoriamo appunto con una rappresentanza che guarda quella che viene chiamata a livello europeo quadrupla elica, ovvero sia come il DNA che via via agganciandosi in maniera diversa secondo quelle che sono le sue componenti, dà vita a organismi diversi, così fanno i cluster, lavorano con la quadrupla elica, quindi mettono a stretto contatto, cercano di facilitare praticamente un processo tra il governo locale, quindi i comuni, unioni di comuni, qua parliamo anche, tutto ciò che può essere un ente pubblico, o comunque in linea generale, quindi la pubblica amministrazione, le imprese, start up innovative e imprese di altro genere, quindi più grandi, quindi che vanno fuori anche quello che è il tessuto delle PMI, la ricerca e tutto quello che riguarda appunto i cittadini e la società in generale. Mettendoli insieme in che modo? Secondo, quella che viene chiamata l'open innovation, innovazione aperta, ovvero sia una grande impresa o un singolo cittadino, o pensiamo per esempio alle pubbliche amministrazioni quando parliamo di andare a scrivere dei progetti europei come sono per esempio gli urban innovation act, che guardano alla città, al cittadino con un occhio diverso, cercando di mettere insieme diverse idee per un progetto, un processo che è più grande. Ecco, l'open innovation è questo, quindi andare a lavorare non in maniera chiusa, ma piuttosto con gruppi aperti dove il cluster diventa appunto il facilitatore di questo processo per avere nuovi progetti, rigenerazione si tratta sempre di processi o riattivazione urbana, parliamo sempre di un processo e non di un progetto vero e proprio, ma di produzione di qualcosa, intendiamo in questo senso, per andare poi sul mercato con un nuovo prodotto, un nuovo processo, un nuovo metodo anche di rappresentare la realtà. Noi all'interno del cluster facciamo questo, quindi cerchiamo di facilitare imprenditori, pubbliche amministrazioni e ricercatori in questo processo che è l'open innovation. Chiaramente per fare questo abbiamo delle compagini sociali particolarmente eterogenee, questa per esempio è quella del cluster build, attualmente siamo arrivati a contare 109 soci e mano a mano che cresciamo in realtà stiamo prendendo sempre più piede su quello che è il territorio imprenditoriale, perché finalmente come vedete il 54% sono imprese, non start up innovative che già hanno una cultura, una mentalità diversa rispetto al progetto innovativo, ma proprio imprese che vedono nei cluster una forza in più, un valore aggiunto che gli può aiutare dove loro magari con le loro strutture organizzative, sicuramente perfette da un punto di vista del management, fanno però fatica a fare quello step successivo, quello che le può portare a creare qualcosa di innovativo. Innovativo vuol dire semplicemente modificare anche solo una piccola parte di un prodotto per renderlo più accessibile a altre persone, aprire nuovi mercati. Ecco, finalmente anche le imprese vedono in noi un valore aggiunto, ecco quindi che la compagine sociale inizia a diventare insomma particolarmente importante da un punto di vista degli imprenditori. Inizia a calarmi adesso in quello che è proprio il cluster build, questa è la nostra compagine, vedrete poi che più o meno il processo è similare per tutti, nel senso che socio più, socio meno, in molti dei nove cluster stanno adesso radunando le imprese, ma in generale la compagine rimane sempre molto eterogenea. Per quanto riguarda il cluster build, le aree di expertise sono sostanzialmente anche qui eterogenee, ovvero sia build di per sé che è l'acronimo con cui invece di ogni volta ripetere edilizie e costruzioni che inizia a diventare un po' pesante, accorciamo e diciamo build, ma edilizie e costruzioni sicuramente è quello che nell'immaginario collettivo di tutti viene in mente la casetta in mattoni, oppure, oggi si parla tanto di super bonus 110, viene in mente quello, sicuramente non viene in mente ragionare in maniera di transizione digitale, transizione verde, transizione ecologica. Nella realtà dei fatti il cluster build, a differenza di molti cluster, anche a titolo europeo, in regione Emilia Romagna il cluster build rappresenta l'intera filiera delle costruzioni. Che cosa vuol dire? Che noi andiamo a lavorare direttamente con il cittadino, la società o imprese del terzo settore, che hanno delle idee, hanno bisogno di qualcosa, di un quid che le porti ad innovarle, ad avere un'idea e a portarla al termine. Ecco, all'interno del cluster troverete tutta la filiera, tra coloro che sono particolarmente impegnati in quello che è il patrimonio culturale e quindi si va a lavorare direttamente sull'edificio vincolato o no, ma comunque che ha un linguaggio, un'importanza architettonica e storica particolare, e lì si lavora da tutti i punti di vista, dalla messa in sicurezza alla, passatemi il termine, sensorizzazione, ovvero sia cercare di trovare dei materiali che da un punto di vista del restauro ci permettano comunque di inserire dei sensori che portano, e quindi entriamo nel campo dell'IoT, dell'Information of Things, Internet of Things, scusate, quindi dei sensori che ci permettono di far parlare quell'edificio con i fruitori. Ecco quindi che come vedete si parla sì di edilizie e costruzioni, parliamo del contenitore, se parliamo, e quindi mi aggancio all'argomento di oggi, di musei, di biblioteche, di archivi storici, non abbiamo soltanto ciò che sta dentro all'edificio, ma l'edificio stesso deve diventare importante perché deve essere accessibile, deve essere sicuro e soprattutto deve permettere a tutte le persone che andranno a visitare quel luogo di sentirsi in un certo modo accolti. Questo vuol dire quindi lavorare sull'organismo edilizio storico o non con tutte quelle che sono le aree di expertise appunto del cluster build, quindi andare a lavorare sul rilievo, sulla diagnostica, sul monitoraggio, sulla manutenzione di questi edifici e fare in modo che questi argomenti, queste tematiche, vadano poi a collegarsi, ad informatizzare quello che invece è il contenuto di quell'edificio. Quindi cluster build sostanzialmente lavora su questo e non solo. Non solo, in realtà lavoriamo, queste qua sono i nostri gruppi di lavoro e quello che vi ho appena raccontato fa parte di quello che noi chiamiamo in Nova Cultural Heritage Management, ovvero andare proprio a lavorare sull'innovazione della gestione del patrimonio culturale, ma poi abbiamo anche tutto ciò che riguarda la sicurezza strutturale e infrastrutturale, la green to build, altro gruppo di persone, sempre della quadrupla elica parlo, che lavorano su tutto ciò che riguarda la sostenibilità energetica e sostenibilità dei materiali per l'edificio fino ad arrivare anche alla città e quindi lavoriamo anche su quelle che sono chiamate smart cities e smart community e dalla smart community ricado direttamente in quello che è il gruppo rigenera, cioè rigenerazione urbana. Abbiamo inoltre istituito altri quattro tavoli che lavorano però in maniera più verticale su determinate tematiche, mobilità sostenibile, sono riduce da un altro convegno ancora proprio su questo tema e in questo caso ovviamente non guardiamo al veicolo, guardiamo più che altro all'infrastruttura urbana, come può essere modificata e cambiata rispetto alle future nuove mobilità dolci. Formazione, prima è stato nominato appunto il fatto che noi come cluster siamo particolarmente impegnati sul tema formazione e guardo Massimo perché in realtà tutti noi nove lavoriamo e crediamo fortemente nella formazione perché in realtà non c'è soltanto il percorso canonico che magari tutti fanno e una volta laureati finisce lì, in realtà invece è una formazione continua, anche voi oggi siete qui perché avete sicuramente curiosità e desiderio di avere delle informazioni in più che vi aiutino a crescere e che vi aiutino a portare valore aggiunto nel mondo in cui state lavorando. I cluster proprio per loro natura perché lavorano sull'innovazione portano un valore aggiunto ognuno per il proprio argomento sulla tematica della formazione e a seguire poi abbiamo il tavolo l'innovazione e il tavolo che riguarda lo sviluppo e tecnologie, questo forse un po' più vicino alla giornata di oggi come know-how, riguarda proprio lo sviluppo di tecnologie 3D per la digitalizzazione del patrimonio costruito. Nel caso specifico si vorrebbe portare a Bologna un competence center, un hub, quindi un centro proprio che vada a raccogliere tutto questo know-how a Bologna e sarà frutto di un progetto europeo. Veniamo un po' al tema di oggi, allora il richiamo che mi è venuto in mente per cercare di introdurre al meglio questo tema perché è vero che ci presentiamo come tre cluster diversi build, innovate e create, ma nella realtà approcciare alla digitalizzazione del patrimonio culturale vuol dire approcciarlo sotto tre diversi punti di vista, quindi i nostri tre cluster cascano a fagiolo, scusate però è così, ma per farlo secondo me c'è questo claim di Rogers che in realtà risale al tempo delle Bauhaus, lui come architetto milanese diceva che come architetto si trovava a lavorare dal cucchiaio alla città, inteso che quando stai progettando anche una scala piccola come può essere un oggetto di design, nella realtà ti trovi a lavorare, a guardare ad un contesto molto più ampio, quindi arrivare fino alla città. E anche se oggi in realtà viene trattato dagli architetti questo claim con un'accezione negativa perché si trattava di avere un architetto tendenzialmente generalista, a me invece piace molto come claim perché dal cucchiaio alla città vuol proprio rappresentare tutta quella che è una filiera che nella realtà dei fatti generalista non è, ma che anzi trova negli edifici e nelle città tutto quello che può essere utile alla cultura, alla riattivazione urbana delle nostre città. Ecco quindi che se parliamo di edifici, al loro interno, soprattutto oggi che stiamo trattando biblioteche, archivi, musei eccetera, troviamo tutto ciò che è cultura, che è arte, dal design, dalle opere e questo fa sì che se noi manteniamo e guardiamo e cerchiamo di rendere sempre più accessibile e fruibile queste opere e questi edifici sicuramente possiamo rinnovare le nostre città. Tutto questo però non è possibile se non guardiamo anche, come dicevo prima, al contenitore in cui queste opere sono, se non cerchiamo di renderle non soltanto sostenibili da un punto di vista energetico, ma non cerchiamo di mantenere tale sostenibilità guardando anche alle caratteristiche che servono a quelle opere. Parlo per esempio nei musei dove bisogna mantenere la temperatura e l'umidità a determinati livelli, altrimenti quelle opere possono subire dei problemi. Pensiamo per esempio agli archivi storici dove abbiamo un materiale cartaceo che è particolarmente sensibile e vulnerabile, dove a maggior ragione bisogna trattare la tematica del microclima indoor con veramente un riguardo molto particolare. Ecco, all'interno del cluster build noi lavoriamo anche su questo e per renderlo sostenibile energeticamente vuol dire anzitutto comprendere quelli che sono i bisogni per cui ogni attività ha il suo requisito e da lì puoi cercare tutte quelle che sono le soluzioni tecnologiche che vanno a supporto di questi bisogni. Ecco quindi che ci viene in aiuto il cluster innovate. Ma dopo che abbiamo fatto tutto questo, se non diamo valore, se non rendiamo fruibile, se non valorizziamo tutto questo percorso, tutto questo fare cose all'interno degli edifici e l'edificio stesso, è come se un albero cade nella foresta amazzonica, nessuno lo vede, nessuno lo sente, è come se non fosse caduto. Ecco quindi invece che tutto ciò che è il know-how del cluster create ci aiuterà a rendere fruibile e valorizzato tutto questo patrimonio. Ecco quindi che secondo me dal cucchiaio alla città rende un po' l'idea di quanto il percorso può essere lungo ma contemporaneamente interessante e sfidante. Qualche esempio pratico di che cosa abbiamo fatto come cluster build e che secondo me potrebbe farvi venire qualche idea e qualche curiosità. Tra questi abbiamo scala di cucchiaio, cioè non città, non edificio, una cosa ancora più piccola. Quello che vedete qua sono le immagini di un reperto, si tratta di un trono del periodo etrusco, attualmente è nel museo di Verucchio e si è lavorato, come vedete il Tecneab, non ve l'ho detto buona parte delle immagini che vedrete oggi sono trattate, sono della fonte come fonti di Tecneab che è uno dei laboratori della rete alta tecnologia e che ha oltre a diverse specifiche la principale è proprio quella del restauro, non soltanto conservativo ma proprio di quello che vuol dire digitalizzare un argomento così pesante come può essere il restauro. In questo caso si è lavorato per annastilosi digitale, ovvero sia il trono purtroppo, forse molti di voi conoscono questi passaggi, doveva essere messo in mostra da Verucchio, essere portato se non mi ricordo male in America, fatto rimane che durante questo percorso, questo tragitto è andato rotto. La scatola è rotolata, il trono ha perso dei pezzi. Quello che hanno fatto è stato ovviamente tutta un'analisi storica, ma non solo, dai vari pezzi sono stati analizzati, digitalizzati tramite fotogrammetria e poi sono stati inseriti in quello che è un sistema 3D. Quindi il trono è stato praticamente ricostruito in maniera digitale, sono stati inseriti, lo vedete da dove parte c'è la seggiolina bianca praticamente, quello lì è il modello 3D e le parti mancanti sono tutti quei pezzi che sono stati analizzati e studiati e purtroppo rotti, come vedete. Per intenderci, parlo più ad alta voce, queste sono le parti in cui era diviso purtroppo il trono, è stato prima fatto un'analisi a mano libera e poi successivamente è stato tutto digitalizzato. Quindi, una volta digitalizzato il trono e ovviamente passato tutti quelli che sono gli avvalli degli storici, si è poi costruito sulla base di questo modello 3D, si è poi ricostruito il trono vero e proprio che adesso voi potete andare a Verucchio e vederlo dal vivo. Quindi, chiaramente, questo rimaneva un po' più complicato, un po' difficile farlo fino a che non sono arrivate le tecnologie 3D. Ecco che quindi uno sviluppo in 3D di questo sistema ci permette di comprendere bene tutte le parti in cui purtroppo è stato rotto il trono. Altro sistema dove vediamo la digitalizzazione del patrimonio proprio e questo secondo me è particolarmente interessante, è la Galleria Borghese a Roma. Perché dico che è interessante? Perché in realtà qua io vorrei parlare di scala di edificio, ma nella realtà dei fatti non si tratta soltanto di edificio. Qua si è andati alla richiesta da parte del committente era conservare e gestire al meglio il patrimonio museale. Come vi dicevo, è inutile conservare e lavorare solo sul patrimonio del museo se l'intero edificio ha dei problemi. Ecco quindi che allora cosa è stato fatto? Si è analizzato l'edificio da un punto di vista statico, quindi da un punto di vista strutturale, da un punto di vista chiaramente di quelli che sono tutti i paramenti murari e le opere d'arte che trovate sui paramenti murari, con che cosa? Con quelli che oggi è sulla bocca di tutti, con il BIM, Building Information Modeling. In questo caso viene chiamato HBIM, Heritage Building Information Modeling o Historical Building Information Modeling. Il fatto rimane è che si tratta di BIM applicato proprio al patrimonio culturale. E perché è così importante? Perché qui si è lavorato prima con un'applicazione delle procedure di scan, scan to BIM, quindi si è andati a lavorare proprio con lo scanner e il laser 3D, si è fatto un rilievo digitale integrato dell'intero edificio, quindi si è lavorato sia da un punto di vista topografico che da un punto di vista del laser scanner, e si è poi creato un modello BIM per andare poi ad implementare questo sistema, perché la parola BIM in sé per sé può dire Building Information Modeling o Building Information Management, ok? Perché vi faccio questo appunto? Perché in realtà andare ad implementare quel modello che vedete, che passatemi il termine, è sempre molto cool vedere immagini di questo genere, ma sono immagini, sono niente più che un'immagine se questo modello non andate ad inserire delle informazioni, non l'andate ad arricchire con tutta quell'implementazione informativa che vi serve per la gestione, ovvero numero di accessi, temperatura umidità relativa che vi serve per la gestione dell'edificio, tutto ciò che riguarda la manutenzione ordinaria, ok? Quindi un sistema del genere in realtà è niente essendo l'andate a collegare a tutto ciò che riguarda il restauro, quindi i dati che saranno utilizzati per la conservazione, la gestione vera e propria, quindi la manutenzione, gli impianti, eccetera, e tutto ciò che riguarda la valorizzazione delle opere d'arte. Infatti, ecco perché vi dicevo, qua c'è scritto scala di edificio, perché in realtà ad oggi siamo arrivati a questo, ma sono state anche digitalizzate tutte le opere d'arte, le sculture che trovate all'interno della galleria, per poi andare proprio a arricchire il database dedicato alla gestione e valorizzazione delle opere d'arte, in modo tale che automaticamente si ha praticamente un sistema informatizzato di edificio e opere d'arte, che tra di loro si parlano, ok? E questo aiuta tantissimo nel momento in cui io devo lavorare all'interno dell'edificio con banalmente un sistema di gestione del microclima. Cioè, voi magari a casa avete semplicemente un cronotermostato, forse i più smart lavorano con le app sul telefonino per dire accendimi il termosiffone quando io arrivo a casa, cose di questo genere. Ecco, nei musei questo in realtà sarebbe veramente di grosso aiuto. Uno perché aiuterebbe a risparmiare, da un punto di vista energetico, abbatterebbe i consumi, permetterebbe di risparmiare, ma contemporaneamente permetterebbe anche una gestione sicuramente migliore in termini di gestione delle opere d'arte, manutenzione di un edificio che, se è arrivato fino a noi, un motivo ci sarà. Cerchiamo di mantenerli tali, i nostri edifici storici, cercare di renderli più resilienti, purtroppo, al cambiamento climatico e soprattutto resilienti ad un turismo che è sempre comunque abbastanza numeroso e che quindi può cambiare quello che è il microclima all'interno di una singola sala. Quindi avere tutto questo sistema digitalizzato permette di dare delle risposte in tempo reale ai bisogni delle diverse opere d'arte. E per opere d'arte intendo tutto, non soltanto il ratto di Proserpina, ma intendo l'edificio vero e proprio. Altro sistema sempre di HBIM, anche qui si parte dalla scala di edificio e si parla di conservazione e gestione del Colosseo e in generale del parco archeologico del Colosseo, ma non soltanto, si è arrivati anche qui a lavorare per automatizzare quella che è la narrazione del patrimonio archeologico. E quindi si è andato ad analizzare anche tutti gli oggetti che poi sono in mostra e cercare, come vedete, dall'immagine reale a quella che invece aiuta a comprendere meglio il microclima indora di cui vi sto un po' tempestando, ma che aiuta veramente tanto nella gestione. Volgo alla fine, e non vi tedio più con queste cose, questo mi permette di introdurre anche la collaborazione con quelli che possono essere i momenti di sinergia con il cluster create. Qua si è lavorato sia a scala di edificio, ma anche, non soltanto per quanto riguarda il discorso di lavorare con tecnologie HBIM, scan, laser scan, topografia, eccetera, ma anche con tutti quei sistemi di realtà immersiva per permettere, perché no, una fruizione diversa dell'edificio e quindi dare anche un valore diverso, dare un'accessibilità diversa alle opere e valorizzare tutto quello che può essere un edificio storico e le opere al suo interno. Che cosa facciamo quindi come cluster build? Oltre a quello che avete visto, quindi lavorare con HBIM e andare a digitalizzare un patrimonio che è bello tangibile, perché è fatto di mattoni o per il movimento moderno fatto di cemento armato. Andiamo però a lavorare anche con le persone, secondo quello sistema che viene chiamato service design, cioè andare a comprendere tutte quelle che sono le problematicità, ma anche i desideri delle persone che lavorano in quel luogo, che visitano quel luogo, e da lì poi dare determinate risposte, ma che devono essere sempre calati sul, passatemi il termine, scusate, sul committente, sul richiedente. È inutile che io vada a dare l'iPhone, non mi ricordo anche che iPhone ho io, dare l'iPhone a mia nonna che quello che le serve il massimo è telefonare, tutt'al più le darò un telefono con dei bei numeri e riuscirà a chiamarmi. Questo non vuol dire che la tecnologia è cattiva, vuol dire che la tecnologia ci viene in aiuto, ma bisogna anche essere pronti ad utilizzarla, a supportarla. Ecco quindi che un processo di service design che aiuta, in realtà che va a supporto delle vostre richieste, deve essere calato su quello che effettivamente sono le richieste. Magari ci si può spingere un po' di più, perché chiaramente stiamo parlando di un patrimonio culturale importante, di un patrimonio storico importante, ma sempre con dei sistemi, devono essere dei sistemi che vi permettono di essere comprese ed essere utilizzati. Se vi si dà una Ferrari e la utilizzate come una 500 non serve a niente. Ecco quindi che i cluster, adesso parlo proprio al plurale, in realtà aiutano proprio questo, quindi comprendere quelli che sono i desiderata per poi calarli sulla realtà. E da qui quindi possiamo sicuramente partire per una progettazione integrata e interoperabile. Grazie. Grazie. Grazie.